Presentati! Se ne avessi la possibilità, cosa ti piacerebbe fare? A me piace tantissimo la musica, vorrei imparare però un po' di più e vorrei cantare, vorrei ballare, vorrei dare al mondo la voglia di poter vivere con le emozioni della musica anche senza averla la musica, solo anche se c'è qua dentro. Posso provare a cantare e ballare che è la cosa che mi piace tanto nella vita, mi piacerebbe anche recitare però dovrei avere tante e tante lezioni. Adesso faccio una canzone maschile Já lavei o meu carro, já preparei o som, tá tudo preparado, menina fica a vontade, venha e faça a festa, menina me liga, gata me liga, ma santa embalada, quero dançar com você e pular, saltar até o sol raiar. C'è Gustavo Lima e você, se você me pegai depois me soigna. Mia filha canta meglio di me, grazie. Fai un appello al pubblico per farti votare. Allora, pubblico italiano, io anche sono italiana, anche se sono nata in Brasile, vorrei avere la possibilità di poter un giorno vincere questa mia voglia, mio sogno nel cassetto, che è quello di imparare a ballare e anche insegnare anche a delle persone che vorrebbe e anche a cantare. Quindi votatemi tutti. Grazie.